Un gran gala dinamico con una forte sensibilità a temi sociali, alla lotta e alla prevenzione ai tumori al seno e alla lotta contro la violenza sulle donne. Il premio di Ahebe, giunto alla sua dodicesima edizione, è stato consegnato numerose eccellenze pugliesi e del meridione, che si sono distinte nell'anno nel mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria, del giornalismo, delle istituzioni e della musica. Sono molto emozionato perché è il primo premio di questa mia brevissima e umilissima carriera professionale. Sono molto contento, sono molto emozionato della nostra partecipazione a questo evento. Mi sono accorto di essere tra un gruppo di amici, insomma, quindi chiacchieriamo, sono contenuti interessanti all'interno di questo evento, quindi molta curiosità anche. Abbinato a questo, il premio dedicato all'attore di origini canosine, Lino Banfi, un riconoscimento artistico legato al cabaret e soprattutto al neoambasciatore pugliese Unesco. Il premio edizione 2019 è stato consegnato al comico pugliese Tommaso Terafino, reduce dai successi di Made in Sud. Orgogliosissimo di ritirare un premio così importante dove per un pugliese poter avere un riconoscimento come la maschera di Lino Banfi è davvero una grande, grande soddisfazione. La serata all'insegna delle eccellenze pugliesi e quindi un pochettino anche noi diventeremo parte integrante di questa iniziativa e consapevole. Grazie davvero di cuore. Ma è un premio molto fortuna per tutte le eccellenze del territorio enorme. Noi abbiamo un'idea, quella di rendere questo premio itinerante e portarlo sul territorio per far conoscere non solo i prodotti del territorio ma anche i giornali, che porti fortuna a tutti. Nella splendida cornice dell'azienda di Oli Sabino Leone a Canosa, l'evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Fondazione Archeologica Canusina e dalla Gazzetta del Mezzogiorno.